Siamo alla bottega del terzo settore ad Ascoli Piceno dove stamane è stato presentato il progetto Sport senza età organizzato dall'Unione Sportiva Aclimarche in sinergia con l'Asur Marche. Sono tante le attività realizzate sia nel capoluogo Piceno che nei comuni di San Benedetto del Tronto e Grotta Mare. Ce ne ha parlato Giulio Lucidi, Vicepresidente dell'Unione Sportiva Aclimarche. Grazie alla collaborazione della Sur Marche abbiamo avviato il progetto Sport senza età nel territorio dei comuni di Ascoli, San Benedetto e Grotta Mare. A dire la verità si tratta della prosecuzione e dell'ampliamento di un'iniziativa Salute in Cammino che realizziamo ormai da cinque anni e che nel territorio regionale ha coinvolto più di 4.000 persone. Per quanto riguarda Ascoli, San Benedetto e Grotta Mare le persone coinvolte sono state mille. In quest'ultimo periodo, grazie all'incremento delle attività con le camminate mattutine a Grotta Mare il martedì e il venerdì, la camminata mattutina a San Benedetto il mercoledì mattina e quella serale a Porto d'Ascoli il venerdì e poi con quelle di Ascoli il lunedì alle 21 da Piazza Ringo e il mercoledì alle 21 da Via Oristano, abbiamo incrementato il numero delle persone che si occupano della propria salute con una particolarità che è quella anche di conoscere il territorio. L'iniziativa Salute in Cammino Ascoli e le camminate culturali del lunedì sera stanno coinvolgendo sempre più persone. All'ultimo appuntamento erano circa 150 le persone, anche con turisti provenienti non solo da zone limitrofe ma anche da altre regioni. Questa particolarità, quella di abbinare la cultura, il turismo alla promozione dell'attività fisica, ha sempre caratterizzato l'Unione Sportiva Acli e proprio grazie a questa caratteristica abbiamo stipulato un protocollo d'intesa due anni fa con la Regione Marche per la promozione dell'attività fisica nella popolazione. Come Coni siete sempre vicini a queste importantissime iniziative degli amici dell'Unione Sportiva Acli-Marc? Sì, certamente. Questa è un'iniziativa molto bella e soprattutto utile perché se è vero che il cervello è una macchina meravigliosa, altrettanto meravigliosa è la macchina piede. Il piede è una struttura stupenda che non ha soltanto funzioni motorie ma anche funzioni di pompa del sangue, cioè favorisce il ritorno venoso e quindi deve essere ben funzionante e lo si fa camminando, facendo grandi camminate. È quindi uno strumento di salute, uno strumento di salute importante che coinvolge le persone non soltanto in attività motoria ma anche in un'attività dello stare insieme, del vivere insieme esperienze comuni. Quindi è un'attività importante che giustamente trova anche risorse a livello regionale e quindi ci sono poi degli artifici, delle persone, delle personalità, degli enti come le Acli che lo mettono in pratica in maniera giusta. Quando si è giovani le modificazioni strutturali verso la via del benessere sono molto evidenti. Quando si supera una certa età bisogna impedire che ci siano fasi di decadenza e quindi bisogna a maggior ragione continuare a fare attività motoria. Per cercare di arrivare come si arriva oggi ad età piuttosto rilevanti ma arrivarci in salute, arrivarci bene. Assessore, gli amici dell'Unione Sportiva Acli Marche sono infaticabili un nuovo progetto che unisce salute, benessere ma anche cultura e turismo. Sì, così. Innanzitutto partiamo da un ringraziamento, come dicevi tu, a tutti quanti gli amici dell'Unione Sportiva Acli e nel particolare a Giulio Lucidi per questa intuizione che ha avuto qualche anno addietro che adesso proprio è diventato un successo per tutta quanta la regione, un successo soprattutto nel nostro territorio, visto che proprio ieri all'ultima camminata che c'è stata ci sono stati più di 150 partecipanti. Quindi, come si diceva in precedenza, un gran bel successo che coniuga la prevenzione, che coniuga la camminata quindi sport, ma anche e soprattutto cultura perché permette, grazie alle guide turistiche della nostra città, di Ascoli di poter conoscere la bellezza della nostra città facendo ogni volta camminata a tema, con tema diversi. Quindi cultura che logicamente anche i nostri concittadini hanno modo, partecipando a questa camminata, di poter conoscere ulteriormente la storia, la bellezza di Ascoli, ma anche un aspetto, diciamo, anche turistico perché presenti sono anche, diciamo, di tutto l'entroterra. Quindi un gran bel progetto che abbiamo avuto modo oggi di testimoniare che sta dando ampio riscontro al nostro territorio. Noi vogliamo dare una mano alle Acli perché la loro attività è veramente importante, attività che spazia rispetto a tutte le attività sportive. E quindi grazie a tutti quanti gli amici che organizzano questo in collaborazione con l'Asur e grazie anche a tutti quanti i loro volontari che ogni volta si mettono in campo, o meglio in cammino, per fare questo bel progetto. Grazie. Grazie.